L'amministratore delegato di Sky Continental, Andrea Zappia. Continental Europe, scusate. Buongiorno, dopo un balletto così non aspettatevi niente del genere, anzi non so dove si compri questo ma sarebbe carino averle uno. Allora, intanto buongiorno, è certamente un piacere poter spendere un po' di tempo qui in questi giorni. Il tema della mattinata è un tema ovviamente interessante per tutti noi e nasconde al suo interno non tanto bene una preoccupazione importante, ovvero sia quanto il cambiamento tecnologico poi incida veramente sulle persone e quanto queste possano invece esserne un attore molto importante. Il mio obiettivo stamattina in questi pochi minuti è condividere con voi come noi stiamo affrontando questo ovviamente dal punto di vista più industriale e strategico da practitioner del settore e al tempo stesso cominciare a capire quali sono le implicazioni che hanno per il capitale umano che noi vediamo. Prima di entrare in settore media e come noi lo affrontiamo volevo condividere tre elementi, tre fattori che oltre all'innovazione tecnologica stanno impattando il modo in cui l'innovazione si sta manifestando e che credo in realtà non siano solo del nostro settore ma anche di altri. Il primo è che l'innovazione tecnologica in realtà non è sufficiente, quello che sta accadendo da noi è l'acceleratore dei mercati di capitale finanziari. Si citava prima l'esempio di Netflix, Netflix è un'azienda straordinaria, non sarebbe esistita negli anni 90 semplicemente perché oggi i mercati finanziari con grandissima liquidità, grandissimi capitali da utilizzare consentono ad aziende di bruciare cassa in grande dimensione ricevendo invece valutazioni molto alte. Questo è possibile perché si entra e si cerca col capitale il prossimo category killer, quello che è stato detto al successo anche di Amazon per esempio. Il che mi porta al secondo punto, cioè la digitalizzazione ha portato sicuramente una grande elemento di democraticità, ma al tempo stesso ha creato, come ben sappiamo, alcuni dei più grandi posizioni dominanti, ha consentito un accesso velocissimo a un mercato globale internazionale. Il terzo fattore che in parte è frutto dei primi due è una spinta deflazionistica bestiale, che vediamo in tantissimi settori, ci tornerò tra un attimo. Ovviamente tutto questo mette sotto pressione il capitale umano, che era abituato ad un contesto tendenzialmente inflazionistico in questi settori e che quindi attraverso la creazione di valore poteva trovare la sua remunerazione. E si trova spiazzato perché deve evidentemente cambiare a fronte di fenomeni che sono molto più grandi di lui. Nello specifico, all'interno dei media, credo che noi siamo di fronte a una tempesta veramente stimolante ed affascinante da affrontare. Condivido due o tre dati senza avere troppe slide. Però un primo dato interessante, questo è relativo allo sviluppo della PTV negli Stati Uniti, vedete sia il numero di case che pagano per la PTV che i minuti nella riga di trascorsi avanti alla televisione. La realtà è che dopo anni in cui l'innovazione è stata presa dal convincitorio ai vinti ma complessivamente al settore come un fattore di creazione di valore, improvvisamente negli ultimi anni questa sottrae valore, ha un impatto cannibalistico, quindi in realtà creando un problema ancora una volta deflazionistico come dicevamo prima. Ovviamente il nostro è un settore, quello dei media, che è molto accattivante. Se guardate le dimensioni rispetto alla musica, che è stata una, poi ci torniamo, di quelle più attaccate dall'innovazione digitale, ha una dimensione molto grande. Ora è vero che all'interno di questo settore, queste sono le dimensioni globali, di questi mercati esistono dinamiche molto diverse. Quella dei contenuti, la creazione dei contenuti e quella della distribuzione. Sicuramente oggi quella della distribuzione è molto più sotto pressione. Chi oggi invece crea contenuti vive una meravigliosa bolla probabilmente. La domanda dei contenuti è incredibile, i costi e i contenuti continuano a salire sia negli investimenti fatti che nel loro costo di acquisizione. Il che evidentemente comincia a creare una forchetta tra mercato deflazionistico e costo della materia prima, del prodotto principale, in realtà in aumento. Ma detto questo, l'impatto sui mercati di questa trasformazione è sempre uguale. Quello sul nostro settore, sulla televisione, lo andremo a vedere, speriamo sia simile probabilmente a quello di mezzo, crediamo. Ma in realtà abbiamo visto che è cambiato molto. Il mercato delle news è stato impattato in maniera definitiva. Ha perso valore, continua a perdere valore, è improbabile che possa cambiare la sua tendenza. Quello di mezzo è quello della musica in realtà, che dopo un impatto negativo ricevuto nei primi anni dalla presenza assoluta dello streaming, si è riqualificato ridistribuendo la ricchezza attraverso altre forme, in particolare dopo lo sviluppo anche della parte live, che è diventata significativa. Un terzo settore, si parlava prima del gaming, in realtà ha beneficiato in maniera costante e totale dalla digitalizzazione, che ne ha consentito una fortissima distribuzione molto più veloce e molto più efficace. Venendo a noi, in un contesto del genere, noi lo affrontiamo con quattro strategie molto chiare. La prima cosa è controlliamo di più il nostro contenuto. Evidentemente abbiamo un azionista molto importante che ha al suo interno NBC Universal, che quindi è uno dei grandi studios a livello globale, ma a questo abbiamo noi recentemente annunciato la creazione di Sky Studios, che porterà alla creazione, con un investimento frino a 1 miliardo e 300 milioni di dollari per il 2024, all'anno in creazione di contenuti, appunto di cui potremo controllare completamente la distribuzione, la disponibilità e anche avere maggiore controllo dello stesso investimento. La seconda area molto importante, ci torno poi alla fine, perché è veramente quella più differente, forse quella che abbiamo visto recentemente, è l'importanza della UI, della user experience. Avrete forse visto che recentemente abbiamo accorpato da zone dentro la nostra offerta, oggi annunciamo l'inserimento di Netflix alla nostra offerta dentro SkyQ. La realtà è che crediamo che più che l'aggregazione, l'integrazione sia fondamentale per consentire un utilizzo migliore per l'utente. Come vediamo noi, il mercato nei prossimi anni è una proliferazione abbastanza importante di direct-to-consumers, app individuali da Netflix oggi, Amazon, Disney+, che andranno direttamente sul consumatore, che evidentemente si troverà di fronte a un'offerta gigante di contenuti e dovrà quindi potersi orientare. Oggi la grande angoscia di molti è il tempo spedio a trovare quei contenuti. Un aggregatore integratore che aiuti, attraverso i motori di raccomandazione, comprendendo bene, utilizzando i dati in maniera appropriata, è fondamentale per facilitare la vita di chi lo usa. Il terzo punto è il cambiamento del mercato advertising. La pubblicità, i canali lineari sono destinati a scendere in maniera definitiva. Si può discutere sulla velocità della discesa delle audience lineari, ma non del fatto che continuino e continueranno a calare. È evidente in questo contesto che la capacità di andare invece con strumenti più contemporanei, di ad-tech, diventa critico per offrire a chi investe invece l'opportunità di raggiungere comunque le audience, su invece un audience on demand che noi stiamo vedendo non solo su di noi, ma su tutto il settore, moltiplicarsi e crescere veramente molto velocemente. L'ultimo elemento, che peraltro è stato uno degli abilitatori di questo cambiamento, che è la distribuzione incrementale della banda larga, è entrare a nostra volta in un mercato delle comunicazioni per consentire ai nostri clienti, in uno specifico, di poter accedere ai contenuti non più soltanto via satellite, anche se è un po' che non siamo soltanto a satellitare, ma attraverso la creazione appunto di contenuti. Tornavo chiudendo su questo tema con quella che vi dicevo è l'aspetto più importante. Il mercato è sempre stato visto dal nostro punto di vista come contenuti e distribuzione, in realtà c'è un layer di mezzo che riteniamo sia molto importante. Negli Stati Uniti Roku ha creato un business che ha una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di dollari, su un fatturato in realtà molto piccolo, ma che gli consente di essere l'interfaccia principale della maggior parte dei tv americani in questo momento. Questo elemento di interfaccia diventa assolutamente critico. Ora, è chiaro che tutto questo per ricondurci al tema del capitale umano è un tema critico, perché se prendete la Sky, non dico quella del 2003, ma quella di tre anni fa, e la paragonate con questa, ma non parlo di Sky Italia, parlo oggi di Sky in tutta Europa, che oggi è presente in 25 milioni di famiglie e in cinque paesi europei, è chiaro che trovate un cambiamento incredibile. Cambiamento che richiede che il capitale umano, le persone, siano pronte a cambiare. Ed è evidentemente un elemento complesso, particolarmente in un paese nel quale chi si è abituato ad essere stato magari il disruptor, quello che ha provato l'innovazione, e oggi deve reinventare se stesso per affrontare innovazione ed evitare che qualcun altro sia capace di generare questa disruption su di lui, ecco, le persone diventano fondamentali. Non soltanto nel cambiamento delle skills che devono avere, ma anche molto in quello attitudinale, la capacità di rimettersi in discussione. E' chiaro che questo richiederebbe un cambiamento anche sociale e politico, che oggi è molto complicato, particolarmente nel nostro paese, più facile in altri, laddove il ricambio generazionale è veramente lento. E alle aziende, tranne che non siano drammaticamente in difficoltà, non è consentito farlo nella sostanza, a salvo che con rare eccezioni. Ecco quindi che se si riuscisse, c'è stato recentemente, ho trovato una proposta interessante da parte del Presidente di Assolombarta, Bonomi, se si riuscisse ad aiutare soprattutto le persone che sono in questa transizione e con loro le aziende consentendogli un cambiamento più veloce, sarebbe assolutamente critico. Detto questo, al nostro interno abbiamo evidentemente ancora fondamentale bisogno di grandi risorse umane, lo facciamo non soltanto con l'innovazione e tecnologia, lo facciamo con una grande creatività e non potevo fare a meno, visto il lavoro che faccio, di lasciarvi con un brevissimo video che vi fa vedere alcune delle serie TV che Sky Studios sta producendo. Sky Studios è un marchio B2B, quindi soltanto industriale, quello che viene presentato ai clienti si chiama Sky Original e vi faccio vedere 40 secondi delle nostre serie. Grazie. Continua a guardare, stai guardando. Solo per voi, le serie Sky Original. Grazie.